Ciao a tutti amici di Mure, sono Trinciatore92 e quest'oggi come vedete parlerò di Dota 2. Dato che mi è stato chiesto da parecchie persone, ho deciso così, quindi di fare questa sorta di video introduttivo, dove appunto parlerò esclusivamente del menu, poi vi parlerò un po' più del gioco in altri video. Vi dico già da adesso che non è che sia proprio informatissimo, che sia un giocatore del vecchio Dota o comunque sia, sono un esperto di questo, quindi prendete le cose un po' così per come le conosco io. Diciamo che ormai è da un bel po' che ci gioco, quindi parecchie cose le ho capite e altre comunque ancora no. È un gioco molto complesso, quindi se avete la possibilità di qualcuno che lo conosce, c'è qualche amico che lo segue da più tempo, che vi può dare un consiglio, una mano, un aiuto, comunque potete chiedere benissimo anche a queste persone se hanno sicuramente l'aiuto più di me. Un'altra cosa molto simpatica è che parecchie persone giocando comunque sono molto predisposte a aiutare parecchia gente, quindi anche se iniziate le prime volte e non siete proprio capacissimi, se chiedete aiuto, insomma, probabilmente troverete gente disposta comunque a darvi suggerimenti a livello di gioco. Ovviamente non è detto che parlerà italiano, inglese o quello che è, probabilmente saranno russi i roll. E quindi insomma, cercate di capire più o meno e segui i consigli perché spesso funzionano più di quanto uno possa pensare. Detto questo, vi preannuncio anche che stiamo facendo una specie di rivisitazione del podcast, quindi faremo a breve un podcast 2.0 in cui parleremo delle console vecchie e delle console nuove che arriveranno. Quindi, insomma, state connessi e arriveranno anche nuovi video. Ultimamente siamo stati un po' assenti in effetti, ma c'è stato parecchio da fare in generale un po' tra tutti, eseguiti tutte le news, poi è ricominciata la scuola, quindi c'è stato un bel po' di impegno. Quindi capisco perfettamente che ultimamente siamo stati un po' assenti. Detto questo, passiamo al gioco perché sennò dopo non arrivano gli insulti. E quindi partiamo dall'interfaccia. Come vedete è strutturata in una maniera abbastanza schematica. Partiamo da qua su, in alto a sinistra, come vedete, abbiamo tutte le impostazioni, sia il livello di controlli, quindi tutte le voci, queste qui, guardatevele bene perché sono molto utili. Poi riguarda il gioco, appunto, se c'è l'autoattacco, cose così. L'autoattacco vi consiglio di toglierlo perché non è comodo. vi conviene cliccare quando è il momento giusto, poi vi spiegherò nel video gameplay magari come fa tutte le cose di... insomma, più precisamente. E cercherò di darvi qualche consiglio in merito più avanti. Sull'aspetto, ovviamente, c'è poco da fare, impostazioni grafiche abbastanza semplici. Insomma, vedete voi poi in base a come ci avete il computer. e qui ovviamente abbiamo tutti i settaggi audio, quindi chat. Qui ricordatevi a gestire bene la soglia della voce in modo tale che non rimanga il microfono sempre acceso e faccia rumori di fondo abbastanza noiosi. Quindi mettetelo un pochino più alto, vi regolate quando vi parla il microfono, qui vi si riempie di verde. Quindi vi regolate un po' tra quello che può essere un brusio di sottofondo e la voce di quando parla di vero e proprio, così non date fastidio agli altri. Detto questo, qui finiscono praticamente tutte le impostazioni. E ci ritroviamo in questa sezione qua. Quassù, cioè, per uscire ovviamente, vabbè, ci abbiamo quassù sei tasti che sono praticamente le voci principali del menu. Qui sulla prima icona ovviamente che abbiamo oggi, abbiamo questa interfaccia qua che ci mostra qui il blog praticamente, quindi con un accesso a internet, tutte le novità di Dota 2, eventuali fix che fanno, aggiornamenti, changelog varie, quindi tutto quello che viene introdotto, strada facendo, eroi, fix di punti vita, abilità e cose varie. E appunto questo serve per tenersi aggiornati sulla situazione, eventuali tornei, robe varie. Qui, qua invece sulla destra, ci abbiamo qua in fondo gli amici, quelli offline, quelli online e quelli che stanno giocando a Dota. Qui ci avete la chat e in pratica tutte le persone della vostra gilda, chiamiamola così, anche se non è una vera e propria gilda. Diciamo è più un clan, ecco. Quindi ci avete la possibilità di creare dei gruppi per iniziare una partita tutti insieme e quant'altro. Quassù poi ci avete, insomma, il vostro personaggio, i punti abilità. I punti sono sempre 1000, man mano che fate le partite salirete ogni 1000 passate di un livello, io so livello 9 attualmente, con 61 vittorie e probabilmente centinaia di sconfitte. Cliccando sul nostro personaggio, sulla sinistra, si aprirà questa interfaccia che ci mostra qui l'eroe che in evidenza che lo possiamo selezionare a noi e lo possiamo abbellire esteticamente con quello che ci pare. Infatti la gonnellina e la lancia lo cambiate. Queste cose fanno parte del free to play, quindi questi accessori si possono o pagare oppure sbloccare durante le partite e sicuramente ne prendete uno quando finite il livello. Durante le partite non è sempre detto che lo trovate. Spesso vi sblocca degli scrigni che però servono le chiavi da comprare, tipo a un euro o due euro, e dentro ci trovate parecchi oggetti anche rari. Quindi niente, qui ci trovate appunto il vostro personaggio che preferite far vedere. Qui i tre eroi più giocati e di maggior successo durante tutto il periodo che avete giocato. Qua sotto invece vi far vedere le partite più recenti che avete fatto e relativi gameplay eventualmente. Infatti cliccando come vedete mi riporta il gameplay, mi dice chi c'erano i giocatori, discarica il gameplay, mette un replay, mette un voto, oppure direttamente dimmi chi ha vinto. Ovviamente abbiamo vinto noi, ma vabbè. Questa ve la faccio vedere dopo che la registro. Qua sotto appunto vedete anche le varie raccomandazioni, delle votazioni che vi danno gli altri utenti. Quindi come vedete appunto io sono risultato abbastanza amichevole e tollerante. Un così così insegnante e un così così leader dai. C'è gente che magari c'ha 61 voti, non è giusto che io me ne considero discreto. Con solo due voti. Detto questo appunto, qui vedete le varie cose. Qui cliccando sugli eroi più giocati vedete appunto tutti quelli che avete usato, le relative statistiche di vittorie e sconfitte fatte col personaggio e una tabella che vi dà una gradazione. Qui ovviamente ci so, non posso vedere il grafico perché giustamente servono più di 4 partite prima che cominciare il grafico con le statistiche più generiche. Quindi questi sono tutti gli eroi che ho giocato ma che ho usato poche volte, mentre quest'altri sono quelli che ho usato più spesso. Poi, detto questo, anche qui abbiamo finito. Qui nella sezione negozio, appunto come vi dicevo ci sono tutti quegli oggetti da free to play o che comunque si possono scaricare. Adesso non ho capito pure perché è lento così. È proprio un problema mio di internet. Come vedete appunto ci sono tutti gli oggetti, torrette vari, abbigliamenti, eccetera. Anche magliette che si possono comprare veri e propri. Qui quei set, appunto, trovate il personaggio quando lo vestite è composto di vari oggetti tipo, che ne so, le spalline, il busto, la cintura, allarmi, oggetti e accessori vari. Quindi si trovano spesso questi set che si possono comprare o man mano li potete anche far voi scambiando oggetti con gli amici. E quindi appunto trovate questi set completi che quindi c'è proprio ogni parte dell'abbigliamento fa capo a una certa... ogni personaggio ha vari tipi di abbigliamento e quindi quando si trova il set completo praticamente spesso vengono venduti quindi o lo trovate uno che vi piace particolarmente, lo comprate oppure vi scambiate gli oggetti al fine di farlo. Qui, come vedete, questi sono gli oggetti che ho trovato io tra mazze, scrigni vari e oggetti più o meno vari come vedete qui appunto c'era la connellina il cinturone, come vi dicevo prima, del Phantom Lancer che mi ero messo come eroe predefinito nel personaggio come vedete qui appunto c'è scritto cintura degli antenati lama degli antenati, spallaccio degli antenati se li beccate tutti vi fate il set detto questo poi qui ci sono vari tipi di filtri e robe varie nell'equipaggiamento potete praticamente scorrere tutti i vari eroi e vede come sono appunto equipaggiati adesso non lo so cerchiamo appunto il Phantom Lancer eccolo e quindi come vedete appunto qui ci sono tutti i vari oggetti e per proporcionalizzare il vostro personaggio quando fate user oe nel mio profilo ve lo mette appunto in quella casellina che vi avevo fatto vedere quindi se magari volete anche dar via degli oggetti o cerca qualcuno che sia disposto a scambiarli con voi magari potete mettere mettiamo che io vi serve un pezzo nuovo per questo qui magari o metto questo con l'unico pezzo che mi manca sperando che ci sia qualcuno disposto a darmi quel pezzo che mi manca oppure metterò un eroe con un pezzo che devo dar via in modo tale che chiunque magari giocando si informa e dice chi si sa che era questo con cui ho giocato mi vede il personaggio con quell'oggetto e magari è pure disposto a cambiarlo qui sul workshop ci sono pure tutti i vari oggetti che si possono creare tramite mod diciamo però non l'ho mai fatto quindi non so che dirvi qui nella sezione gioca ci abbiamo appunto la ricerca delle partite potete scegliere i server qui preferenze ci sono tutte vi consiglio l'inglese comunque sia per non andare a finire in server lontani dove poi vi lag e appunto qui ci avete tutti i vostri server a scelta e potete iniziare la partita qui vi mette anche le regioni predisposte più o meno al tipo di matchmaking e qui le varie modalità di gioco io ho messo all pick e single draft dove all pick ti mette tutti gli eroi da poter scegliere tranquillamente single draft ti fa scegliere tra tre eroi a casaccio che dà a tutti i membri in partita cercando quindi di organizzarsi tra tutti per trovare una squadra quantomeno equilibrata poi c'è camp 10 modes che praticamente c'è una persona che vi dà un eroe quindi uno che decide e poi abbina e si crea la sua squadra cioè vi affibbia un eroe che ritiene adeguato random draft ve lo dà uno a casaccio scelto da mucchio e così via insomma non ve li sto a legge tutti tanto c'è poco senso insomma qui vi ritrovate le modalità che preferite poi c'è la partita coop con i bot che quindi vi permette di creare una squadra con te o con voi e i vostri amici e contro dei bot quindi per l'allenamento è particolarmente comoda specie all'inizio quindi se trovate anche qualcuno disposto ad aiutarvi magari cercate di fare queste qui con i bot che comunque non vi creano impicci di statistiche e robe varie che poi dopo ricadono anche sul matchmaking le partite a squadra logicamente vi permettono di creare la squadra prima di inizia ma tanto basta che poi il capo squadra avvia la partita e la circa la trova da solo qui vi trova una lobby già iniziata e vabbè altre robe su addestramento non mi ricordo se fa partire una specie di single player fatto in un modo strano ve lo fa fa anche quando siete se non c'avete internet che siete offline praticamente vi fa fa questa specie di single player che ricorda un po' più un hack slash alla diablo insomma dove c'è un percorso non c'è la struttura vera e propria da mappa multiplayer e piano piano vi fa fa praticamente le stesse cose del multiplayer però ve le spiega più come fosse una storia diciamo poi qui ci abbiamo su guarda tutti gli eventi che possiamo seguire in qualità di spettatori quindi tutti i vari tornei qui c'è tutto il calendario qui appunto vi dicono i tornei che ci so quando ci so tutte le date le partite dal vivo attuali quindi io potrei adesso entrare in una o qualunque di queste le partite recenti sono quelle più diciamo che non ci hanno una priorità di importanza come magari può essere un torneo però sono quelle appunto che so che stanno a fare in questo momento e quindi io posso controllare tra queste qui ci sono variate patch quindi ve li cercate questi sono i vari gameplay che vi siete scaricati e che quindi potete come vedete appunto qui qui di qua e qui ci so sempre io perché appunto sono tutti i replay che mi sono scaricato e quindi posso ricontrollarli direttamente da qui poi su comunità non mi ricordo che c'è c'è la gilda vabbè quindi tutte le informazioni dei membri disponibili che so presenti la squadra e altre cose sinceramente non l'ho usato più di tanto perché io in genere o gioco da solo comunque con gli amici ma senza impegno più di tanto quindi non mi sono messo a fare squadre robe varie perché tanto non ci perdo tempo e la libreria è il punto più importante qui ci dovete passare praticamente la maggior parte del tempo prima di inizia perché vi sarà molto 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 utile come vedete qui ci sono tutti gli eroi disponibili e vi li differenzia ci sono vari filtri di ricerca vi differenzia per tipologia quindi per forza che so principalmente degli eroi appunto di forza quindi che all'attacco fanno parecchio male generalmente vengono sempre presi da tutti quindi se siete le prime armi magari è consigliabile che ve ne troviate uno abbastanza semplice che non ci abbia poteri particolarmente strani da dove usare e quindi vi trovate abbastanza bene poi magari andate su questi altri che sono un po' più di magie e oggetti e quindi magari con l'esperienza che accumulate poi magari vi dedicate a qualche altro eroe particolare ci sono anche eroi abbastanza semplici tipo il Venomancer che è abbastanza utile anche già all'inizio insomma comunque ne trovate di qui c'è già Kiro quindi anche in queste altre due sezioni agilità e intelligenza comunque ci sono degli eroi abbastanza semplici da usare ovviamente anche dal lato di forza comunque ci sono eroi che per sapere li usare come Puge ad esempio o AX richiedono particolari oggetti e capacità e esperienza un po' in generale quindi diciamo che la maggior parte con cui uno ci si trova bene saranno qui nella forza più che altro quindi vi consiglio di iniziare da questi di eroi casomai a studiarli poi come vedete cliccandoci sopra vi apre appunto la pagina dell'eroe con tutte le statistiche tutti i video di prova i vari incantesimi che c'è appunto tutte le varie magie i dati e quant'altro tutti i tipi di possibilità di danno e i vari scaglioni aumentando di livello vi farà vedere appunto anche tramite video i vari attacchi mazza che briscola che ha tirato pensavo facesse meno casino e quindi insomma questo è molto utile anche per capire bene che tipo di attacchi fa e come si fanno più che altro anche in relazione ai nemici che ci avete vicino gli eroi inoltre sono divisi per tipologie quindi ci sono i carry che sono appunto quelli sono quasi tutti di forza cioè parecchi sono di forza però ci sono anche delle altre tipologie di agilità e di intelligenza che sono appunto eroi che servono per già all'inizio cominciare a portare in vantaggio la squadra e salire abbastanza in fretta di livello poi ci so ehm ehm ah beh i carry poi logicamente sono anche degli eroi ehm che ah no questi qui i durable che poi vabbè non è che ce ne sono tantissimi questi da mischia diciamo sono degli eroi particolari che tendono a dare il meglio di loro quando stanno in mezzo a tanti altri eroi eh sia nemici che amici ad esempio Ax c'ha parecchia abilità eh di contraattacco passivo quindi generalmente viene usato eh proprio come carry armado nel senso lui si butta in mischia comincia a menà e mentre l'altri lo attaccano poi il resto della squadra va in supporto e lo aiuta e quindi cerca di eh appunto di uccidere i nemici in maniera abbastanza comoda Axe logicamente ci avrà una vita lunga una difesa un po' più alta e quindi come eroi è predisposto per questo tipo di eh di situazioni strategiche diciamo poi ci sono i nuker che adesso non so se ne trovo uno eh che sono praticamente degli eroi che fanno particolarmente tanto danno eh agli altri eroi nel senso eh a differenza dei carry che sono forti i nuker sono abbastanza deboli di vita però eh come vedete Zeus ad esempio non è che sia particolarmente forte o che ci abbia tanta vita o resistenza però con degli attacchi che fa riesce a togliere tanta tanta vita ai nemici quindi è utile ad esempio eh nel discorso di prima magari un Axe si mette in mezzo a prendere botte poi arriva Zeus vede che ci so eh due nemici con metà vita che sono abbastanza in crisi avendoci un attacco che leva tanto eh magari prova attacca quelli lì e li elimina sul colpo poi ci so utili come supporto ci so logicamente eh i supporti veri e propri eh alcuni che stanno eh in modalità passiva adesso non so se mi viene in mente qualcuno ecco appunto c'è Shen che è un supporter eh livella tanto eh non c'ha magia d'attacco quanto più da supporto quindi riesce a donare la vita permette di teletrasportare un eroe alla base se magari è sotto attacco e sta per morire eh quindi è un eroe appunto da supporto ci so ad esempio eh windrunner che so dei disable e dei support quindi permettono di eh zittire come si può di i nemici quindi non possono fare attacchi per un tot di tempo o una tipologia di attacchi magari quelli a corpo o quelli a magia eh a seconda poi del tipo di eroe ognuno disabilita varie cose magari gli oggetti piuttosto insomma tutto qua e quindi permette magari di eh zittire gli nemici così che non possono attaccare magari gli lancia pure un c'ha una magia particolare che permette di incatenarli all'alberi quindi l'eroe non può allontanarsi dalla zona e e quindi tutti gli altri poi possono attaccare anche questo nuker quindi c'ha attacchi anche dalla distanza che comunque levano parecchio però non so attacca eroe da mischia quindi se ci avete due contro cercate di stagliere il più lontano possibile perché se si avvicinano siete morti e poi insomma e così via ci so qui trovate tutte le informazioni sotto al nome come vedete lane supporter dazel per dire è un altro che dà parecchia vita aumenta la resistenza agli amici di suo non è particolarmente potente tant'è che viene definito lane support perché sta tra i vari lane della mappa poi ve le spiegherò durante il gameplay cosa sono e cerca di dare supporto agli eroi che stanno sulle varie lane che so bottom mid e top e quindi appunto è un personaggio di transito perché deve curare un po' tutti e questo è il suo scopo insomma poi logicamente ci sono tanti altri tipologie ognuno chi appunto è fatto per sentire e scappare poi ci sono i pusher ad esempio come il phantom lancer o broad mother broad mother è abbastanza difficile da usare però da parecchie soddisfazioni che sono eroi che praticamente hanno un'abilità di sfondamento diciamo come si può dire non d'attacco ma di sfondamento ad esempio il phantom lancer permette di aumentare un'abilità particolare che gli permette di duplicarsi e ogni duplicato crea a sua volta altri duplicati adesso cercherò di vedere l'ama fantasma ecco come vedete si duplica tantissimo quindi permette di creare queste copie farlocche che magari mentre voi state abbastanza distanti da una torre nemica non so per chi ha giocato ad esempio League of Legend o Guardian of Middle Art per console questo genere di giochi come sapete la struttura della mappa con le due basi e le varie torre e strutture da difende o da attaccare come vedete appunto il phantom lancer creando queste copie il broadmother creando tanti ragnetti permettono di creare questi diciamo queste copie che sono più fiacche di noi eroe però possono andare magari contro una torre morire senza particolari senza che a noi ci capita niente nel senso non perdiamo soldi non perdiamo vita stiamo a riparo però intanto fanno danno quindi servono appunto per sfondare le strutture e servono per spingere sulle varie lane stando abbastanza riparati logicamente non è che spingono a priori se mandi un ragnetto e ti lascia un eroe ve lo distrugge subito perché non è che ci abbia tanta vita però magari ne fai 30 e così riesci a pushare e quindi insomma ci sono tanti eroe varie tipologie di tutti i tipi quindi l'unica cosa è provarli tutti e capire per quale tipologia uno è particolarmente predisposto e si trova bene a giocare ovviamente nessuno nasce in prato e arriveranno insulti di qualunque tipo perché logicamente è un po' così c'è gente che magari entra e ha quelle 20 partite in più però magari è sempre allo stesso livello o a un livello vicino quindi vi mette insieme nella partita magari voi fate una cavolata rischiate una volta di drop in un punto sbagliato e vi dice che siete nabbi e robe varie quindi insomma passateci sopra e non ve la prendete troppo a cuore perché tanto è così fine quindi magari appunto piuttosto che prendesela a male insomma magari cercate di capire dove sbagliate o chiedete aiuto per non sbagliare detto questo comunque ci sono tantissimi eroi appunto quindi è l'unica cosa è provarli magari anche su internet su youtube trovate parecchi video dedicati ai vari eroi su varie tecniche dopodiché ci sono gli oggetti ogni quando siete in partita voi dovrete uccidere dei creepy che sono dei mostriciattoli che vengono creati sono non giocanti e loro verranno contro di voi e i vostri andranno contro di loro questo è un appunto per farmar praticamente ognuno che ne ammazzate vi dà dei soldi gli eroi vi danno tanti più soldi e così come le strutture che a seconda dell'entità della struttura vi dà parecchi soldi cercate di spendeli e di non teneveli da parte perché se morite ve li fregano i nemici e se morite tre volte loro sono in vantaggissimo a quel punto quindi cercate di morire poche volte non rischiate per niente e quando ci avete un po' di soldi cercate di comprare gli oggetti qui non ve li sto a far vedere perché ogni eroe ha degli oggetti particolari a voi dal negozio che aprirete nel gioco che ve lo troverete qua sulla destra potrete mettere nell'inventario del vostro eroe fino a sei oggetti a differenza di Guardian of Middolard dove c'erano le centurure con le rune che rimanevano di partita in partita diciamo erano dei potenziamenti che uno creava sul proprio personaggio e se li ritrovava ogni volta che entrava in partita qui ogni volta è un reset da zero non c'è alcun tipo di personalizzazione permanente degli eroi salvo appunto i vestiti quindi ogni volta che entrate zero oggetti zero monete zero opzioni diciamo di potenziamento tutte le volte vanno comprati giocando la partita quindi come vedete poi magari trovate prima gli stivali per aumentare la velocità poi la vita il corriere per farvi portare gli oggetti più in fretta senza che tornate in base e c'è di tutto poi logicamente vengono filtrati a seconda della tipologia dei eroi che scegliete vi metterà che ne so tra i consigliati magari appunto questo oggetto dell'avanguardia piuttosto che la lama questa qui cristalis e appunto poi ve la farò vedere bene nel gameplay appunto avevo preso nel gameplay che grazie grazie allo scettro questo qui dell'intelligenza lo scettro di aganim praticamente imbraccia un tronco e picchia più creepy per volta quindi fa un danno ampio raggio anziché specifico e aumenta anche il danno che effettua ovviamente questo qui ve lo metterà tra i consigliati più costa anche parecchio come vedete 4200 monete che ci vuole tantissimo per farlo e quindi appunto non state a inizio partita a tenebili da parte per arrivare a 4200 piuttosto comprate questi più semplici più piccoli come questo qui da 350 che vi dà la vita o cose simili inoltre gli oggetti come vedete anche lo scettro sono scomponibili e ricomponibili da vari oggetti quindi anziché magari accumula 4200 rischiando di perderli magari siete arrivati a 4000 morite e vi ritrovate con 3600 dando quindi soldi all'avversario scomponete l'oggetto cliccandoci sopra praticamente questo vi sale sopra qui e vi dà tutti gli oggetti di come è composto e quindi potete comprare i singoli oggetti vedete 1000 1000 1000 se avete 3000 o 4000 praticamente ve li comprate questi 3 rimanete solo con 1000 e a 1200 se anche morite non li perdete più di tanto quindi cercate appunto di comprare gli oggetti che vi servono non accumula mai troppi soldi e se dovete comprare qualcosa di costoso scomponetelo e comprate i singoli pezzi perché se no è più facile da aiutare il nemico che aiuta a se stessi in pratica qui sulle build voi trovate dei set che potete creare voi in partita e ve li ritrovate oppure sfogliando quelli condivisi dagli altri amici o dagli altri utenti e quindi troverete una serie di oggetti insomma tutta una serie di oggetti che sono stati creati come fit diciamo per quell'eroe quindi magari se voi anche non sapete bene quali oggetti abbina perché logicamente alcuni oggetti vi danno alcune funzioni non c'è senso comprare tutto o comprare tre cose che non so collegate minimamente tra di loro ma io so tre oggetti che so collegati da un criterio di utilizzo quindi anche qui trovare delle guide o dei fit degli eroi delle build appunto di oggetti è di grande aiuto detto questo appunto direi che è finito non so quanto sono andato lungo credo di stare tra i 15 minuti più o meno sto registrando peraltro con la GT Experience c'è una funzione che ho scoperto da poco che si chiama Shadow Play e permette appunto con i giochi supportati che però sono pochissimi appunto tra cui Dota però Battlefield 3 Arma 2 e altri non mi ricordo Batman qualcosa del genere permette appunto di registrare tipo fraps scegliete voi la qualità la durata mi pare massimo fa 20 minuti appunto fate massima qualità vi registra 1080-60 frame e la cosa figa è che vi registra direttamente in H.264 che sarebbe la codifica video dell'MP4 quindi voi vi ritrovate dopo 20 minuti anziché come fraps che vi fa 35 giga di file video con questo qui magari state 20 minuti quando uscite quando appena interrompete la registrazione lui ve lo salva e vi ritrovate che ne so un video di un quarto d'ora che dura che pesa massimo 3 giga e quindi questo è fenomenale proprio peraltro registra con una qualità davvero fedele e senza intaccare minimamente cioè un po' sì logicamente ma non come fraps o altri software le performance di gioco quindi scaricatevi anche GT Experience perché per quei giochi comunque può far comodo questa funzione ovviamente partite dal presupposto che GT Experience vi ottimizza i giochi secondo il suo criterio ovviamente il suo criterio non è proprio quello ottimale quindi se siete particolarmente se sapete fare impostazioni video e robe varie usate quello sicuramente è una mano santa è una mannata al cielo se siete particolari che magari preferite piuttosto il frame rate che la texture o un effetto video piuttosto che un altro quello vi conviene farlo a mano perché sennò lui vi trova delle soluzioni un po' differenti da quelli che possono essere gusti personali detto questo appunto ho detto un po' di tutto ho annunciato cose nuove cose vecchie parlato del gioco del menu in pratica e anche di gt experience che non c'entra niente non sto a fare pubblicità per chi se lo stasse a chiedere e quindi niente appunto state connessi anche perché arriverà appunto il video di gameplay riguardo appunto dota e anche il podcast 2.0 che dovremmo fare verso fine settimana quindi oggi è il 31 d'ottobre è Halloween olè ma ovviamente voi non lo saprete ma perché Halloween sarà già passato quando è caricato il video e quindi niente appunto aspettate perché tempo massimo 4 o 5 si spera di novembre comunque già sarà online anche il podcast e quindi state connessi ah una novità che mi stavo per scordare sto andando lunghissimo peraltro iscrivetevi anche al canale logicamente iscrivetevi anche alla pagina di facebook dove oltre a postare una marea di foto e link utili notizie e robe varie che trovo in giro per la rete in tempi anche i record spesso e volentieri ho aggiunto nella pagina di facebook il link diretto a youtube quindi anche dalla pagina di facebook potrete vedere i video caricati sul canale in maniera ovviamente più recenti non è che potrete stare a rifroga roba postata magari caricata 3-4 mesi fa però trovate i video più recenti e può essere logicamente comodo perché magari uno è fuori casa o così senza che se ne va su youtube a cercare il canale eccetera va lì e si trova tutti i video a disposizione i più recenti e post sempre sta al corrente inoltre c'è mi piace commentate sono i classici di facebook potete anche condividere il video su facebook direttamente quindi è comodo insomma spero che qualcuno possa interessare quindi iscrivetevi anche su facebook e con questo è tutto quindi vi saluto ciao e alla prossima